La giovane vita di Peaches, figlia di Bob Geldof, è stata stroncata da un'overdose di eroina. La conferma ufficiale è arrivata e rimanda a fin troppe analogie, paralleli e similitudini. La 25enne, madre di due figli piccoli, non aveva solo sperimentato droghe in gioventù, era stata dipendente dall'eroina. Poi aveva intrapreso un percorso per interrompere la schiavitù. Si aiutava con i sostitutivi, metadone principalmente. Ma non ce l'ha fatta. Già mesi fa era ricaduta nello scuro vortice, sul corpo trovato senza vita, nella casa nel Kent dove viveva con la sua giovane famiglia, i segni inconfondibili della dipendenza, sui gomiti, sui polsi e sulle dita. Anche il marito, il musicista Tom Cohen, si ritrova tragicamente ad ammettere che in fondo sapeva che era tornata a usare eroina. Nonostante Peaches avesse negato in più occasioni, nonostante si sottoponesse a teste e verifiche, ora si sospetta che sugli esiti mentisse. Nella casa del Kent sono stati trovati 6,9 grammi della sostanza, nessuna traccia però che possa indicare un suicidio.